Fai più buio. Sì. Ecco, così. Adesso esci fuori nel corridoio e dopo un po' rientra come se sbagliassi camera e trovassi uno sconosciuto. Carino, questo non l'abbiamo mai fatto. Ferma così, fatti un po' vedere. No, no, ci vuole un trucco, più... Più come? Più da porca. Vieni qua, dammi la mattita. Stai ferma. Bello questo lampadario. Sì, sì. No, perché voglio prendere la precaria. Ma stai ferma. Come si chiama quest'albergo? Della ferrovia. Ah, voglio scriverlo a mio marito, così mi manda subito un espresso. Vedessi che belle lettere che mi scrive. Poi te le faccio leggere. Sì, sì, ma se non stai ferma non... Fai la faccia da porca. Sweep, esci fuori nel corridoio. Ah, ma non era una parte che devo fare. Sì. Mi hai preso per una delle tue attrici. Vai, vai fuori. Perché credi che non sarei capace di fare come loro? Invece no, sai. Non mi piacerebbe mica fare con la vita lì. A me piace starmene a casa. Su, esci, che io dormo. Shhh. Di un po'. Se la facessi sul serio questa cosa, saresti geloso? Ma perché? La faresti sul serio? Chi lo sa? No. No. Grazie a tutti.